Sono stati molto cordiali i colloqui tra Papa Francesco e la signora Doris Leutard, Presidente della Confederazione Elvetica, ricevuta in Vaticano nel giorno del giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Oltre a ricordare il generoso servizio svolto dal corpo, riferisce un comunicato della Sala Stampa Vaticana, è stato sottolineato il comune desiderio di rafforzare ulteriormente i buoni rapporti che intercorrono tra la Santa Sede e la Svizzera e di intensificare la collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato. Al centro dei colloqui anche i temi più attuali come il futuro del continente europeo, l'accoglienza dei migranti, la sfida del mondo del lavoro per i giovani, la lotta contro il terrorismo e l'impegno per la tutela dell'ambiente.